Un lungo viaggio che in realtà parte dalla Puglia, arriva qui a Milano, che io considero, ma non sono l'unico, la città, la Mecca, quindi nella musica, una città di passaggio e a volte anche una fermata forzata, però vogliamo tenere vivo questo viaggio e questo progetto nasce proprio per questa volontà di continuare a tenere vivo questi 800 chilometri che separano la Puglia da Milano. Noi siamo partiti l'anno scorso in realtà con un progetto che è appunto un cortometraggio che abbiamo girato in Puglia, precisamente da Acquavia delle Fonti, che racconta la storia della musica da Acquavia delle Fonti, che è il mio paese di origine e quindi è da qui che ripartiamo quest'anno perché questo cortometraggio ha ricevuto un premio da Honorable Mention, che è da un festival molto molto interessante che non vi voglio presentare perché è qui con me il direttore creativo, nonché il fondatore di questo progetto e quindi invito subito a salire sul palco Giuseppe Amimeo. Bene, accomodiamoci, proverò anch'io questa situazione di divano, ah vedi, è comodo, figo, allora ci sta oggettivamente. Allora, Giuseppe, raccontaci un po' innanzitutto quel progetto e tanto poi avremo modo di spiegare come è nata poi questa amicizia di base perché ormai... Ah, buonasera a tutti innanzitutto, sono felicissimo di essere, di portare il festival per la prima volta qui a Milano, a saperlo mettevo anche una giacca, non mi hai avvisato e sono un po' dispiaciuto di questo. Brevemente, il nostro festival si chiama Fernando Di Leo Short Film Festival, è un festival di cortometraggi, felice, con 800 km di musica ha portato uno dei suoi, un suo lavoro, e nasce da un'idea di fondo, Fernando Di Leo chi è? Passiamo dalla... facciamo qualche passo indietro. Fernando è stato un regista importante, vi racconto un piccolo aneddoto, siamo nell'84 circa, a Los Angeles, in California, c'è un giovane che in quel momento non sapeva ancora di essere un regista, che viene assunto in una videoteca. In questa videoteca, tra quelle cassette che spulcia da fan appassionato qual è, la prima che vede è I padroni della città, del 77 di Fernando Di Leo. Comincia a guardarlo, resta stupito dalla bellezza di quelle immagini, dalle azioni che quel film aveva, e decide, piano piano, di scoprire tutta la filmografia di Fernando Di Leo, tutti i film italiani B-movies, e poi diventare Quentin Tarantino. Pum. Quentin Tarantino si è ispirato a Fernando Di Leo. Ora, perché io sono qui a rappresentare Fernando Di Leo? Perché Fernando Di Leo è nato a San Ferdinando di Puglia, un paese di 12.000-13.000 abitanti nella provincia di Barletta, Andrea Trani, e a San Ferdinando di Puglia non c'è neanche una strada intitolata a Fernando Di Leo. Pochissimi sapevano chi fosse, per lo più veniva indicato come un regista di film erotici. Noi, bazzicando nel mondo della comunicazione cinema, videoclip, facendo un po' il regista, il pensiero ogni tanto andava lì e dicevo, com'è possibile questa cosa? E abbiamo deciso di omaggiarlo in questo modo, inventandoci un festival del cinema basato sui cortometraggi. Ne sono arrivati tantissimi quest'anno, così magari facciamo capire l'importanza del premio che hai ricevuto. Spara qualcuno. Su 306 cortometraggi in concorso ha vinto il premio, anche felice con il suo cortometraggio, la menzione d'onore. Un applauso, 306. Applauso, applauso, grazie. Tra l'altro da 31 nazioni di tutto il mondo, tutte a San Ferdinando di Puglia. Ora mi fa rossire però, non esageriamo. Tra cui Acquaviva, nazione indipendente, sappiamo, della Puglia, in provincia di Bari. E i giovani abbandonano, abbandonano e vanno via alla ricerca di trovare una strada che gli appartenga, no? Perché se io faccio un'università, ma anche solo se voglio fare l'artista, è normale che devo evadere, non posso pensare di farlo lì. E invece, cazzo, noi siamo andati controcorrente. Abbiamo detto, no, facciamolo qui, facciamolo qui il festival. Creiamo un'opportunità per tanti ragazzi. Noi siamo una ventina circa di under 30 che abbiamo tirato su questo festival dal nulla. Totalmente, adesso magari lo dico sottovoce così non mi sentono abbandonati dalle istituzioni. L'abbiamo fatto soltanto con i soldi degli sponsor, che siamo riusciti a procacciarci in maniera coraggiosa, anche bussando tutte le porte che potevamo bussare. E ce l'abbiamo fatta. Beh, noi siamo qui proprio perché il nostro compito, la mia volontà e la nostra volontà, è quella di esattamente creare questa connessione. Quindi, appunto, valorizzare quello che ci impuglia, quello che state facendo voi con questo festival, e cercare di portarlo un po' alla luce, anche in contesti importanti come quello di oggi, come quello della Milano Music Week. Quindi, assolutamente questa è la nostra missione. Mi piacerebbe fare un veloce cenno con, diciamo, un po' quello che è il motivo per il quale, di base, ci siamo subito trovati, perché era semplicemente una unione di intenti. Nel senso che entrambi ci siamo ritrovati in Puglia e domandarci, e ora? Che si fa? Dobbiamo fare qualcosa qui nella nostra terra? Io, diciamo, ho iniziato lì e ho preso il mio furgoncino così simpatico per arrivare qui a Milano, ma, appunto, la mia base operativa è giù. Voi avete deciso, invece, proprio di investire, diciamo così, di creare qualcosa giù, e questo è il mio prossimo passaggio, non lo diciamo. Sì, io ricordo, la racconto perché loro, purtroppo, non hanno assistito a questa nostra telefonata magica che ci siamo fatti. Noi non ci conoscevamo, e alla fine abbiamo sfogato quelle che erano tutte le nostre idee e frustrazioni riguardo a quello che siamo, no? Dice, di base chi sei tu? Io sono un artista, no? Sono un artista anch'io, magari un creativo. E la cosa importante per un artista, credo, a mio modo di vedere, è quella di creare un impatto, di suscitare qualcosa negli altri, altrimenti non lo faremo, non lo facciamo solo per noi, no? Quando ho capito che magari era il caso di tornare a casa mia e investire su qualcosa che potesse essere utile per i tanti ragazzi che fanno parte del festival perché non avevano una ragione, non trovavano un loro senso e l'hanno trovato nel festival, allora quell'impatto, e qua cito una ragazza brasiliana che ho conosciuto una volta a Bari, credo si chiamasse Rais, e lei mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto, voi lo fate per il lascito. E questo forse è il senso di tutto questo, no? L'impatto che abbiamo sulle vite degli altri, qualche volta dobbiamo soffermarci a pesarlo, no? E dire, se possiamo lasciare indietro anche un po' di soldi, perché chiaramente è un sacrificio anche economico, lasciare indietro una speranza di avere una vita nella city, un intrattenimento in più, però per dare un futuro a qualche ragazzino che poi magari si avvicinava al festival e ti chiedeva, ho scritto una sceneggiatura, 12 anni, ha scritto una sceneggiatura e non sa come farla diventare un film. Magari ognuno di noi ha un senso in questo mondo, io forse l'ho trovato così. Grazie, grazie Giuseppe, complimenti per tutto quello che state facendo.